E' stato ritrovato nel rio Melezzo, il corpo senza vita di Alessia Proto-Spataro, recuperato sano e salvo, il disperso in Valgrande. Un 34enne arrestato dai carabinieri di Domodossola, aggredito il nuovo compagno della ex, nonostante il divieto di avvicinamento. Vandali ancora in azione a Verbagna, questa volta in piazza Fabri a Intra, ma le telecamere li hanno incastrati. Ai nostri microfoni Angelica, la 18enne di Cesara affetta da sarcoma di Ewing nella malattia mai sentita sola. In arrivo giornate di caldo record anche nel VCO in Novarese, zero termico a 5200 metri sulle Alpi Occidentali. Torna dal 18 al 25 agosto sentieri e pensieri a Santa Maria Maggiore, tanti e illustri gli ospiti attesi. Ben ritrovati e una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. In apertura tanta cronaca è stato trovato senza vita nel rio Melezzo, il corpo di Alessia Proto-Spataro dopo una settimana di ricerche. Lieto fine invece per il milanese disperso in Val Grande è stato localizzato nella notte dal soccorso alpino e recuperato in mattinata dall'elicottero. Sono finite purtroppo nel peggiore dei modi le ricerche di Alessia Proto-Spataro, l'escursionista milanese di 49 anni che risultava dispersa in Valle Vigezzo dal 9 di agosto. Il suo corpo, senza vita, è stato trovato nel rio Melezzo. Sull'accaduto la procura di Verbagna ha aperto un fascicolo. L'ipotesi è che la donna sia caduta e che il rio l'abbia trascinata via. Per giorni squadra di soccorritori hanno battuto tutta la zona della piana di Vigezzo senza esito. Oggi il ritrovamento è stato fatto da un tecnico di soccorso alpino civile dall'elicottero della Guardia di Finanza. Hanno partecipato alle ricerche, vigili del fuoco e protezione civile. Alessia era uscita dal bed and breakfast di Domodossola dove alloggiava per un'escursione in Valle Vigezzo con i mezzi pubblici. I soccorritori hanno tracciato i suoi spostamenti attraverso le cellule che ha agganciato il suo smartphone. Ha acquistato un biglietto di andata e ritorno della cabinovia della piana di Vigezzo. Lì è stata ripresa per l'ultima volta da una telecamera di videosorveglianza. Il biglietto per il ritorno non è stato vidimato. Sono stati utilizzati i droni e la zona è stata sorvolata dall'elicottero fino alla triste scoperta di oggi. Si è conclusa invece poco prima di mezzogiorno di oggi l'operazione di recupero di Carlo Vincenzo D'Orta ha ritrovato sano e salvo il 52enne milanese che era disperso in Val Grande. Le ricerche erano iniziate mercoledì mattina dopo che i familiari ne avevano denunciato il mancato rientro. Era partito da Cicogna il 14 agosto e si era perso. Aveva trascorso una prima notte alla Giaccio. La mattina del 15 aveva comunicato di stare bene e di aver capito dove si trovava. Ma non è stato più in grado di dare ulteriori informazioni. Lo hanno cercato il soccorso alpino piemontese, il SAGF, vigili del fuoco, carabinieri del parco e protezione civile. Battuti i boschi nella zona degli Alpeggi Soliva Varola-Curgei. Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati sentiti dei richiami da una zona estremamente impervia e boscosa. L'elicottero dei vigili del fuoco ha lasciato poi una squadra del soccorso alpino in zona per continuare a cercare anche di notte. Sono intervenuti anche i droni dei vigili del fuoco che riescono a individuare il calore. L'uomo è stato individuato ma non è stato possibile raggiungerlo in sicurezza con il buio. Grazie alle indicazioni fornite dalla squadra, questa mattina il servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte lo ha raggiunto e prelevato con il verricello per riportarlo a Valle, dove è stato valutato dall'equip sanitaria che lo ha trovato in buone condizioni, nonostante le tre notti trascorse la Giaccio. Arresto dei carabinieri di Domodossola in Valle Vigezzo, in manette un 34enne che ha aggredito il nuovo compagno della ex. Era stato denunciato già due volte nei mesi scorsi dai carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore per violazione degli obblighi familiari e atti persecutori con l'avvio del codice rosso della misura del divieto di avvicinamento. Eppure, nonostante tutto, ieri sera intorno alle 22 il 34enne si è ripresentato a casa della ex in Valle Vigezzo aggredendo il nuovo compagno prima verbalmente e poi anche fisicamente, provocandogli anche lesioni lievi. Così i carabinieri del radiomobile di Domodossola, intervenuti su richiesta della vittima, hanno bloccato l'uomo portandolo in caserma e dopo aver raccolto le testimonianze, considerando i precedenti a suo carico e la pericolosità dimostrata, hanno proceduto al suo arresto per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal nuovo compagno dell'ex convivente e per atti persecutori, conducendolo al termine degli accertamenti nella casa circondariale di Verbagna. Precisa l'avvocato di fiducia dell'arrestato, Clarissa Tacchini, evidenzio che il provvedimento di non avvicinamento a meno di 80 metri era stato emesso a beneficio del nuovo convivente dell'ex compagna, non avendo mai avuto il soggetto comportamenti persecutori nei confronti della ex, oltre peraltro ad essersi verificati i fatti in locali pubblici in ossola, locali frequentati da entrambi. Vandali ancora in azione a Verbagna, questa volta in piazza Fabria, Intramale e Telecamere li hanno incastrati e la polizia municipale sta procedendo all'identificazione. L'amministrazione comunale annuncia sanzioni per i responsabili. Ancora atti vandalici nel parchetto di piazza Fabria e Intram, a questa volta i responsabili sono stati scoperti. Nella notte del 14 agosto sono entrati nei bagni pubblici e hanno divelto una porta. Sono poi usciti usandola per ripararsi dalla pioggia. Grazie al sistema di videosorveglianza del comune, in queste ore il comando di polizia locale di Verbagna sta provvedendo alla loro identificazione per le sanzioni del caso. L'amministrazione comunale di Verbagna, dicono il sindaco Silvia Marchionini, l'assessore alla polizia municipale Pratik Rabaini, si muoverà con le necessarie azioni di tutela per un fenomeno che non può trovare spazio in città e sul territorio, oltre alle già molte iniziative di controllo a partire dall'allargamento del sistema di videosorveglianza in città. Purtroppo non è la prima volta che succede. Nel parco giochi, davanti alle scuole Cantelli, molto spesso gruppi di giovani si ritrovano la sera e la notte. Ulteriori telecamere di videosorveglianza saranno collocate prossimamente in città, ha fatto sapere nei giorni scorsi l'assessore Rabaini, anche al multipiano di via Madonnina a Pallanza, dove sono state danneggiate auto e svuotati gli estintori. Giorni di intensi controlli per la polfera del Piemonte e della Valle d'Aosta a bordo dei treni durante il ponte di Ferragosto. Sono 10 gli indagati e circa 3.300 le persone controllate nell'ambito dell'intensificazione dei servizi predisposti dal compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte-Valle d'Aosta dall'11 al 15 agosto. 160 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 15 quelle a bordo treno, per un totale di 35 treni scortati. In relazione al maggior flusso di viaggiatori sono stati potenziati i servizi antiborseggio e navi di civili, per contrastare il fenomeno dei furti, sia in stazione che a bordo treno. Sono stati 1.500 gli stranieri identificati, 16 le sanzioni amministrative elevate, di cui 5 in materia di sicurezza ferroviaria. Durante tutto il weekend sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza nelle stazioni, che in concomitanza con le partenze previste per il ferragosto, verso le località turistiche, sulla costa e in montagna, hanno fatto registrare una significativa presenza di viaggiatori. Il raccontato della gara di solidarietà per Angelica, la diciottenne di Cesare affetta da sarcoma di Ewing. L'abbiamo incontrata al microfono di Vincenzo Amato, ha raccontato come ha scoperto la sua malattia e ha aggiunto di non essersi mai sentita sola. Io ho scoperto a maggio di avere questa malattia perché ho fatto delle visite specialistiche, siccome avevo un forte dolore alla schiena e alle gambe. Dopo quando sono usciti i risultati, mi hanno portato direttamente a Novara e mi hanno operato subito il giorno che sono arrivata e poi dopo la riabilitazione dell'intervento alla schiena mi hanno mandato a Torino per cominciare le mie terapie di chemioterapia e adesso pian piano le sto facendo. Ci sono storie, come quelle di Angelica Andreoli di Cesara, che ci consigliano con la vita e con gli altri. Ci fanno sperare che avere un mondo migliore non è poi così difficile. Angelica ha 18 anni e un mondo pieno di sogni da realizzare. Frequenta la scuola alberghiera, vuol fare la cameriera e girare il mondo sulle navi. Il coraggio e la forza non le mancano e chi la conosce aggiunge che non le manca nemmeno l'ironia. Mamma Carla, per starle vicino, ha dovuto trasferirsi a Torino e questo comporta tante spese che per lei, operaie in un'azienda della zona, sono insostenibili. Altre al suo posto si sarebbero abbattute. Invece lei ha il coraggio di un leone, anzi, perdonatemi, di una leonessa e da forza anche alla sua mamma e a quanti le sono vicini. Ha voluto presentarsi davanti alle telecamere per dire grazie a quante sono davvero molti, l'hanno aiutata e la stanno aiutando. Si è presentata così com'è. Non ha voluto neanche mettere qualcosa in testa per far vedere com'è in questo momento la sua testa, senza capelli. Non si vergogna affatto. A Cesare, qualche mese fa, in occasione del suo diciottesimo compleanno, l'hanno festeggiata in municipio. C'è chi ha organizzato, come la sua amica Linda, una festa sorpresa e poi ci sono ancora le associazioni, a Kenzio Bellotti e tanti ancora. Lei vuole dire grazie a tutti perché in questa sfida non si è mai sentita sola. Ma forse dobbiamo essere noi a dirle grazie perché Angelica ci sta insegnando che basta poco per essere tutti davvero un pochettino migliori. Auguri, Angelica, per quanto tu stai dando anche a ciascuno di noi. E sappi che in questa sfida non si è da sola. Ci attendono giornate di caldo record a causa dell'anticiclone africano. Lo riferisce Meteo Live VCO. Un altro valore che potrebbe sorprendere è il dato dello zero termico. È previsto a 5200 metri tra domenica e lunedì. Specie sulle Alpi occidentali. Meteo anche tra Verbano Cusiossola e Alto Novarese è un data di caldo con possibili temperature record nell'ultima decade di agosto. Lo riferisce il sito Meteo Live VCO di Luca Sergio. Spiega Sergio, la prima parte di questo mese di agosto è già stata molto calda, una delle più roventi mai registrate. Potrebbe piazzarsi, aggiunge, con un'anomalia di più un grado tranquillamente al momento tra le 3-4 più calde. Classifica che verrà scalata nei prossimi giorni prosegue l'appassionato di meteorologia grazie all'aumentare delle temperature dovuto alla risalita di aria molto calda dal nord Africa. Temperature che per l'ultima decade di agosto conclude potrebbero essere da record. L'anticiclone nord africano è pronto a invadere l'Italia. Il caldo sofferto fino ad oggi quindi è solo l'antipasto di un piatto ancora più bollente in arrivo dal weekend. Un piatto bollente eccezionale, rimarcano i meteorologi, che parlano di un fenomeno anomalo e straordinario per il periodo quasi alla fine dell'estate. L'anticiclone invaderà l'Italia con asse sud-ovest-nord-est con il massimo della sua potenza sul centro nord italiano. Si rinforzerà entro il weekend e porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi. Un altro valore che potrebbe sorprendere è il dato dello zero termico. È previsto a 5.200 metri tra domenica e lunedì, specie sulle Alpi occidentali. Lo zero termico è la quota alla quale nella libera atmosfera la temperatura passa da valori positivi a valori negativi. 5.200 metri sarebbe un nuovo dato sorprendente, raggiunto solo un paio di volte in modo diffuso negli ultimi 30 anni. Il 20 luglio 1995 prima e il 25 luglio 2022 poi. Un valore con importanti e preoccupanti ripercussioni sui nostri ghiacciai. Le alte temperature potrebbero provocare crolli di parete e frane improvvise in alta montagna, laddove il fondo ghiacciato solido lasciasse troppo spazio alle acque di fusione. Sottolineano gli esperti uno scenario preoccupante. Almeno per 10 giorni dovremmo monitorare il nostro territorio e la nostra salute. Dobbiamo prestare attenzione al rischio caldo come facciamo per il rischio alluvioni. Una notizia di interesse per i nostri artigiani è aperto da oggi lo sportello per le aziende artigiani piemontesi che intendono richiedere un contributo per partecipare a una fiera tra le 136 individuate dal bando di cui 24 in territorio piemontese durante il periodo di tempo compreso tra il 16 di ottobre e il 31 di dicembre 2023. Sono riconosciute le spese sostenute con lente fiere con l'eventuale allestitore esterno autorizzato dall'ente fiera. I termini per presentare la domanda sono dal 17 agosto fino a usaremento delle risorse disponibili e comunque non oltre le 12 del 16 di ottobre. L'importo del contributo deve essere compreso tra 2.000 e 5.000 euro. 675.000 euro sono così disponibili per gli artigiani che ne faranno richiesta. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica FINDOM accessibile sul portale della Regione Piemonte. Parliamo del progetto Valgrande Bike bocciato dal Parco Nazionale. Voleva la creazione di un itinerario cicloturistico ma anche un intervento di Land Art sul crinale del Piancavallone. Dieci statue di persone ad altezza naturale che si sarebbero consumate nel corso del tempo. Il Parco Nazionale della Valgrande ha bocciato e mettendo un parere negativo il progetto Valgrande Bike assetto della rete cicloturistica del territorio dell'Unione con interventi di integrazione e valorizzazione finalizzato all'incremento della fruizione sostenibile del territorio montano presentato dall'Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo. Il progetto in questione riguardava l'istituzione di un itinerario ciclo escursionistico all'adeguamento dei percorsi anche su tracciati di nuova realizzazione e un intervento di Land Art sul crinale del Piancavallone con l'installazione di dieci statue con figure umane in grandezza naturale. La relazione tecnica ha evidenziato che il progetto avrebbe comportato significative interferenze con l'integrità del sito. Si legge nella nota ufficiale del Parco Nazionale e con la conservazione degli habitat e delle specie alcune delle quali di interesse comunitario presenti nella zona di protezione speciale e nella zona speciale di conservazione del parco. Gli interventi avrebbero dunque rischiato di alterare l'unicità del paesaggio. In particolare sono state sollevate preoccupazioni riguardo all'erosione del suolo all'alterazione del patrimonio naturalistico e all'impatto sulla biodiversità causato dalla promozione degli itinerari cicloescursionistici soprattutto in relazione all'utilizzo di biciclette elettriche e le cosiddette e-bike. La decisione prosegue il comunicato basata su valutazioni approfondite e allineata alle politiche di conservazione ambientale con particolare considerazione delle recenti politiche europee incentrate sulla biodiversità e sullo sviluppo sostenibile. L'ente Parco sottolinea la priorità di tutelare il carattere naturale selvaggio dell'area protetta preservando l'unicità del paesaggio e promuovendo la conservazione degli habitat e delle specie presenti. La decisione è basata sul principio di precauzione pur riconoscendo la necessità di implementare gli aspetti economici quando non sono in contrasto con la protezione ambientale pone innanzitutto l'accento sulla tutela di quest'ultima. Il Parco nazionale della Val Grande conclude la nota nel suo impegno a preservare l'ecosistema e la vita naturale continua a lavorare per garantire una gestione sostenibile e rispettosa dell'ambiente consentendo fruizioni e attività compatibili con le finalità istituzionali dell'area protetta. Torna da venerdì 18 a venerdì 25 agosto Sentieri e Pensieri la rassegna letteraria organizzata dal comune di Santa Maria Maggiore e diretta da Bruno Gambarotta a tanti e illustri gli ospiti attesi. Da Carmen Lasorella ad Andrea Vitali passando per Giore Dix Lia Levi Carlo Cottarelli e Massimo Cirri e ancora tra gli altri Fausto De Stefani Franco Berrino e Nando Dalla Chiesa saranno oltre 25 grandi ospiti che accompagnati da spalle e moderatori calcheranno il palco posizionato come sempre nell'incantevole Parco di Villa Antonia. Si rinnova anche quest'anno un appuntamento fisso per l'estate culturale di Santa Maria Maggiore torna infatti da venerdì 18 a venerdì 25 agosto Sentieri e Pensieri la rassegna letteraria organizzata dal comune di Santa Maria Maggiore e diretta da Bruno Gambarotta dalla scienza ai diritti umani dall'economia alla cultura fino a toccare i generi letterari più amati dieci giorni dunque per un variegato calendario di qualità per questa e undicesima edizione del Festival Letterario nato nel 2013 sotto l'eggita del Salone Internazionale del Libro di Torino ed oggi è organizzato dal comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno e patrocino di Regione Piemonte con il prezioso contributo della Fondazione Comunitaria del VCO della Fondazione Paola Angela Ruminelli dell'Interreg paesch.it e la collaborazione e il sostegno tra i monti del Parco Nazionale della Val Grandi di Borgati dal Vivo della Fondazione Circo dei Lettori del Club Alpino Italiano della Sezione Val Vigezzo e del CSI Verbagna New Entry del 2023 Sentire i Pensieri appuntamento online con approfondimenti interviste e dibattiti che affiancheranno per la prima volta al Festival Anche quest'anno vi sarà poi il Bookshop di Sentieri e Pensieri Il programma completo è online su www.santamariamaggiore.info slash sentieri In apertura di pagina sportiva il calcio si è radunato anche l'Omegna e da parte dei dirigenti del sudalizio Cusiano non sono mancate parole di solidarietà per i vicini del Bagnella interessati nei giorni scorsi da un incendio alle strutture del campo Noi abbiamo perso dei giocatori li abbiamo rimpiazzati con altri giocatori secondo me di livello abbiamo messo dentro dei giovani dal nostro settore giovanile dei ragazzi della Juniors come avevamo detto l'anno scorso che ci teniamo anche al nostro settore giovanile e vediamo vediamo com'è questo campionato sicuramente è un buon campionato livellato ci saranno almeno 5-6 squadre più o meno tutte sullo stesso livello e piano piano vediamo quello che succederà perché comunque Omenia è una piazza che merita e quindi noi abbiamo lavorato per queste cose come avevamo già lavorato l'anno scorso siamo andati avanti anche quest'anno perdendo dei giocatori che purtroppo dispiace che sono andati via perché erano ragazzi di Omenia però abbiamo preso altri giocatori abbiamo fatto altre cose via il nostro primo obiettivo è quello di diventare competitivi contro ogni squadra che andremo a incontrare la domenica sarà dalla prima pre-campionato con la Juventus Domo fino all'ultima del girono di ritorno il nostro obiettivo sarà quello di farci trovare pronti ad essere competitivi per ogni partita una squadra che ha subito diversi cambiamenti nell'organico diciamo che l'anno scorso già si era ringiovanita molto la rosa perché erano andati via alcuni ragazzi di esperienza e di qualità di sicuro di categoria e quest'anno diciamo che il cambiamento è stato ancora più radicale perché c'è stato un rinnovamento quasi completo sono rimasti pochi ragazzi dell'ultima esperienza e quindi bisognerà come stavi giustamente dicendo ripartire non da zero però ripartire con un lavoro nuovo diciamo anno 2.0 un messaggio di solidarietà in relazione appunto all'incendio che è scoppiato nel campo del Bagnella sì oggi è cominciata l'attività dell'Omenia Calcio ma un pensiero non può non andare agli amici del Bagnella per questo disastro che è successo al loro campo al bar agli uffici e quindi da parte nostra da parte dell'Omenia Calcio vola mandare un messaggio di solidarietà e di vicinanza per quello che è successo ma siccome li conosciamo sappiamo che sono gente tenace che si rimbocca le maniche e non sta tanto a piangere quindi sono sicuro che presto rimetteranno a posto la loro struttura che è storica e come giusto che sia tornerà a vivere come i giorni migliori quindi forza Bagnella e ora andiamo a conoscere Edoardo Cagliazza talento a emergente delle arti marziali miste sempre al microfono di Emanuele Pellegri Edoardo Cagliazza talento emergente delle arti marziali miste più comunemente conosciute come MMA allora chi è Edoardo Cagliazza dal punto di vista della figura dell'atleta ciao a tutti sono Edoardo Cagliazza ho 25 anni sono un atleta in MMA professionista mi alleno a Roma all'Aurora MMA ho iniziato da piccolo col pugilato a 10 anni e a 16 sono passato all'MMA facendo vari percorsi fino alla nazionale da direttante facendo l'europeo e poi passando professionista a 24 anni e ho iniziato il percorso professionista facendo 4 match 3 vitti 1 perso eccoci qua come mai la scelta diciamo di avvicinarsi insomma di iniziare uno sport tra virgolette violento però che comunque nasconde un sacco di valori questo è uno sport che in verità c'è tanta disciplina dietro sia come atleta che come persona partendo anche solamente dalla dieta dagli allenamenti molto rigidi e tosti ma anche l'unione nel team per aiutare i propri compagni a realizzare i loro obiettivi vincere i match quindi in verità siamo persone molto disciplinate con molto unite in palestra ma anche fuori perché comunque sia crea dei rapporti umani con le persone e poi diventica anche tu di conseguenza una persona che è più empatica ora cerchiamo di capire un attimo che differenza c'è tra le arti marziali miste e appunto il pugilato classico semplicemente il pugilato è solamente pugni in varie direzioni come indiretti gacci montanti schivate eccetera e mentre il MMA sono tutte le arti marziali messe insieme quindi abbiamo il pugilato il kickboxing il muay thai il lotta gruco romana il judo il karate il jiu jitsu quindi sono tutti i sport messi insieme è molto più completo come sport più complicato diciamo una curiosità ma negli arti marziali miste ci avete qualche tipo di protezione? oltre a conchiglie e guantini che sono qua non abbiamo nessun altro tipo di protezione quindi praticamente solo i guantini per quanto riguarda i colpi si può colpire dappertutto oppure ci sono dei punti appunto dove non si può andare a colpire? da direttante i guantini sono più imbottiti sono da 6-7 once e abbiamo i paratibie mentre al professionista i guantini sono da 4 once e non si hanno i paratibie i colpi da direttante sono i pugni di gambe non sono vietati le ginocchiate e le gomitate poi ci sono le proiezioni i strangolamenti non si possono tirare le leve alle ginocchia che vanno a rompere i legamenti ma solamente le leve dritte che non vanno ad allungiare le ginocchia mentre al professionista possiamo colpire con le gomitate anche le ginocchiate le leve alle ginocchia non si può colpire la nuca la colonna vertebrale non si possono mettere le dita nella bocca o negli occhi attaccarsi ai guantini e per il resto si può fare tutto Siamo in chiusura di telegiornale vcoazzuratv.it le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata